Sul tema Londra, Londra sono stati più furbi e sono più furbi dei leghisti, sa perché? Perché hanno detto noi usciamo, ci facciamo un bel porto franco a Londra, a tassazione quasi zero, così tutti i miliardari del mondo che non verranno a Milano ma andranno a Londra e a Londra camperanno bene. Milano avrebbe una grande occasione, che il loro amico Maroni ha capito, e cioè quella del post Brexit, cioè quella di portare su Milano una serie di istituzioni, tra quale quelle finanziarie e anche qui ci sono una serie di proposte. Milano si è fermata alla questione del farmaco, l'agenzia del farmaco, perché giustamente c'è un'ottima industria farmaceutica, ma per esempio c'è tutta la questione finanziaria, che stiamo lasciando dove? A Francoforte, e Francoforte non fa altro che prendersela, e fa bene a prendersela, perché se gli altri intorno sono ottusi, fa bene a prendersela. Allora è facile criticare, dire l'Europa, come fa Trump, facciamo il muro, e loro dicono via dall'Europa, ma via dall'Europa per fare che cosa? La tassa piatta con un debito così alto, ma come fai? Vuol dire prendere in giro gli italiani, come facciamo? Svalutiamo il debito? Lo cancelliamo? L'ho detto in apertura perché è un tema che volevo toccare ovviamente con...